Beh, un altro misterioso caso concluso con successo. Ehi ragazzi, che ne dite di festeggiare con un mega party da Re dell'Hamburger? Sì, Re dell'Hamburger, Re dell'Hamburger. Io avrei un'idea migliore. Shaggy, ti ricordi mia sorella minore, Madeline? La piccola Dinkley, occhioni dolci? Come potrai dimenticarla? Questo non è carino, tu le piacevi veramente. Scusa, Madeline è una ragazzina dolce, dovremmo andare a trovarla una volta. Quella volta e adesso, mia mamma vuole che andiamo a vedere come sta. C'è qualcosa che non va? Puoi dirlo forte, Madeline sta frequentando una scuola per maghi illusionisti e... Beh, a quanto dice mia madre, la scuola sembrerebbe essere minacciata da un grifone. Ah sì, grifone, un grifone no, qualsiasi cosa ma non un grifone. E che cos'è un grifone? Una creatura per metà aquila e per metà leone. E non è che potrebbe decidersi? È una leggenda, Shaggy, risale ai tempi del Medioevo, non esiste veramente. Ah, si dice sempre così. Andiamo, non possiamo dire di no alla mamma di Velma. Prima perché non diciamo di sì a un mega hamburger party? Re-re-re-le-hamburger. Re-re-re-le-hamburger. Ok, Scooby-Doo, pesca, forza! Non posso, Shaggy! Perché no? Non ho con me la canna da pesca! La prossima svolta è fra cinque miglia. Occhio alle buche, escludendo quelle sul sedile di dietro. Era uno scherzo, dosso! Mi dispiacerebbe tenere gli occhi sulla strada. Molto curioso il nuovo GPS della Mystery Machine, non trovi Fred? Dove l'hai presa la patente in un discount? Tutto sommato è divertente. E questa qui, la scuola dei maghi? Sembrerebbe un castello. Infatti è un castello. Il maniero Flannery si trovava in Irlanda, dove era noto per certe misteriose apparizioni. Poi nell'Ottocento il suo proprietario, Lord Shemus, lo portò in America ricostruendolo mattone su mattone. Qui dice che quel Shemus o Flannery praticava la magia nera. Piuttosto agghiacciante, non trovi, Scooby? Sì, agghiacciante. E non è ancora finita. Alla sua morte, Shemus fu sepolto in una cripta sull'isolotto del lago poco distante. Fortunato che non abbiamo preso i costumi da bagno, Scooby. Il castello fu di recente venduto all'asta per una somma piuttosto consistente. Al prossimo pino, girare a sinistra. A sinistra, sveglia gente! Sei sicuro della strada? Rilassati, Sharpina. Questa è la strada panoramica. Perché tutti la chiamano Sharpina? Questo è un ascolt. Gira a destra al salice piangente. A destra! Gira a sinistra al roto dentro. Alla puzzola, fai inversione 1. Fred, non può essere la strada giusta. Devo controllare la garanzia di questo coso. Ehi, guardate! È la strada per la scuola! Eccola là! La strada per la scuola! Grazie a tutti.